what day a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo video ebbene ragazzi quest'oggi è il 23 dicembre quindi ciò significa che domani ovviamente sarà il 24 dicembre ergo la vigilia di natale quindi è arrivato il natale anche quest'anno ogni volta che mi ritrovo a fare video di auguri mi stupisco lo dico sempre di come il tempo voli e non ce ne rendiamo conto ragazzi ma vola per davvero perché è passato già un altro anno ci ritroviamo di nuovo nel periodo delle festività natalizie e quindi come sempre non può mancare un piccolo video di auguri da parte mia purtroppo quest'anno non ho pensato ad alcun video speciale di natale cosa che a volte invece mi è capitato di fare negli anni passati mi dispiace per questo ragazzi spero magari il prossimo anno di riuscire ad ideare qualcosa di molto più carino di un semplice video in cui vi faccio gli auguri cercherò di rimediare ve lo prometto e quindi eccoci qua non penso che questo video durerà tantissimo ragazzi però come sempre mi piace fare una piccola riflessione sul natale insieme a voi sicuramente è la festività che più preferisco ormai in assoluto e mi piacerebbe che questa festa fosse sentita come magari era sentita più in passato perché purtroppo secondo me con il passare degli anni ragazzi si è perduto quello che davvero dovrebbe significare il natale e riguardo questo volevo leggervi una piccolissima frase presa da canto di natale di charles dickens che è questo piccolissimo libro che il caro dickens ci ha donato anche se molto piccolo secondo me è un libro che ha un enorme significato davvero un anzi un grandissimo un immenso significato per quanto riguarda sì il natale ma per quanto riguarda comunque quello che appunto il natale in generale dovrebbe voler significare ragazzi parla appunto di quella che dovrebbe essere comunque la bontà l'umanità quindi che dovremmo cercare di non perdere non solo durante il giorno di natale ma durante tutto l'anno infatti la frase che voglio leggervi dice onorerò il natale nel mio cuore e cercherò di conservarmi in questo stato d'animo per tutto l'anno vivrò nel passato nel presente e nel futuro e i tre spiriti saranno sempre presenti in me la lezione che mi hanno dato non sarà vana questa ovviamente è una frase che viene pronunciata dal protagonista di questo libro ebenezer scrooge prima di dire qualsiasi altra cosa vorrei consigliarvi vivamente la lettura di questo libro che un libro che io amo profondamente e che come tradizione rileggo tutti quanti gli anni a natale è sempre un piacere leggerlo anche perché è di una lettura davvero molto molto scorrevole molto piacevole tra l'altro Dickens come narratore è qualcosa di assolutamente fenomenale adoro il modo in cui scrive mi è sempre piaciuto e quindi ho sempre amato questo suo racconto e ve ne straconsiglio la lettura magari la lettura anche ai vostri figli se avete dei figli o avete dei fratelli più piccoli magari so che magari una cosa ragazzi che non si fa di consuetudine ma è un racconto che secondo me tutti quanti dovrebbero leggere proprio per l'immenso significato che ha questa frase specialmente ragazzi mi colpisce sempre perché dice onorerò il natale nel mio cuore perché è vero comunque ambientato proprio durante le festività natalizie quindi vuole prendere quello che dovrebbe essere il vero significato del natale e allargarlo però a tutta la vita nel senso allargarlo quindi a tutto l'anno onorerò il natale nel mio cuore e così farò per il resto dell'anno quindi terrò questo stato d'animo per il resto dell'anno perché il natale dovrebbe significare questo ragazzi dovrebbe significare essere più buoni tra molte virgolette dovrebbe significare essere più umani più altruisti più ben disposti verso il prossimo cosa che non non è da tutti e cosa che oggigiorno forse soprattutto non è facile fare ma io cerco sempre di sperare che là fuori ci siano tante persone che vivano così questo spirito natalizio e che cerchino appunto di onorarlo davvero tutto l'anno anche magari inconsapevolmente ma quello che significa è che dovremmo cercare tutti i giorni dell'anno di essere più altruisti più umani più ben disposti verso gli altri è un qualcosa di davvero molto importante per me questa cosa perché purtroppo temo che col passare del tempo l'umanità si stia perdendo sempre di più e quindi quello che posso sperare soprattutto in onore di queste festività natalizie è che l'essere umano torni a ritrovare la sua umanità torni a ritrovare il suo altruismo quindi torni a ricordarsi che non dobbiamo per forza combattere gli uni contro gli altri in preda al più grande ed egoismo pensando che il proprio bene sia per forza più importante di quello degli altri certo è importante ma dovremmo appunto ricordarci che forse ognuno di noi meriterebbe ragazzi appunto di essere benedetto tra molte virgolette da quello che è lo spirito del natale vi ho detto all'inizio video che il natale è la mia festività preferita in assoluto infatti così è lo è sempre stata e penso che comunque quando si si è piccoli un po a prescindere il natale sia la festività preferita però quando si è piccoli principalmente si pensa al caro babbo natale si pensa al fatto che si ricevono dei bei regali di regola e quindi ovviamente non non sia ben presente quello che dovrebbe essere l'importanza vera del natale crescendo si dovrebbe tener presente di più quella importanza e infatti per me perlomeno con il passare degli anni il natale ha significato sempre un periodo in cui ricordarci che magari l'amore è molto importante infatti io lo passo sempre in famiglia siamo quattro gatti per modo di dire nel senso che non passiamo più tempo assieme a parenti o robe del genere siamo veramente soltanto noi nella strettissima famiglia ma vi dirò che sono felicissima così perché so che quelli sono gli affetti a me più cari sono gli affetti a me per me più importanti ovviamente e quindi vi giuro che è così bello passare quei tre giorni perché parliamo comunque di vigilia di natale di santo stefano ovviamente è meraviglioso per me il pensiero di poter passare assieme agli affetti a me più cari questi tre giorni sempre appunto ricordando qual è lo spirito del natale e vi giuro che vivo una magia ogni anno spero davvero di tutto cuore ragazzi che possa essere lo stesso per voi non so se lo passerete in famiglia in che modo lo passerete spero soltanto ragazzi vi auguro di poterlo passare nel migliore modo che riterrete giusto quindi io ringrazio veramente di tutto cuore tutti voi per quest'anno passato insieme con i suoi alti sui bassi periodi di pausa giornate in cui avrei dovuto pubblicare poi non sono riuscita ringrazio veramente di cuore ognuno di voi per il sostegno il supporto che mi dimostrate continuamente e in ogni modo quindi grazie 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 veramente dal profondo del cuore io vi auguro con tutta me stessa di passare un felice e un sereno natale quindi di passare nel modo più sereno e più bello più autentico e più umano possibile queste festività natalizie dovrei farvi gli auguri di buona fine dell'anno già da adesso penso che lo farò quindi vi auguro anche una buona fine ragazzi perché non credo che farò un video per la fine dell'anno forse sì non lo so in ogni caso se così non dovesse essere ragazzi vi auguro già da adesso un felice anno nuovo sperando come sempre ragazzi che questo 2024 possa davvero regalarci una vita un pochettino più serena per quanto possibile quindi grazie davvero di cuore a tutti i ragazzi è ancora davvero buon natale vi voglio bene